Comande dai colleghi, Alfonso Sciascia, Carta Canta Web, che ti chiede oggi si porta a casa il primo punto in campionato e anche la prima volta la porta inviolata della stagione. Può essere un piccolo punto di partenza anche per il morale dei tuoi ragazzi? Sicuramente, noi dobbiamo continuare a lottare come abbiamo fatto oggi. So benissimo che abbiamo fatto poco davanti, però se guardiamo che non abbiamo preso gol è un fattore positivo. Ci siamo invitati, abbiamo cambiato tre moduli in un'altra partita per far sì di mettere più in difficoltà l'avversario e i ragazzi, come ho detto prima, sono stati diutili e queste sono le cose positive di quest'oggi. Senti, hai parlato...